Sono rimasta molto soddisfatta di questa clinica. Mi chiamo Barbieri Maria Giuseppe e vengo da Firenze. Sono ritornata per un controllo, dopo due anni. Va tutto bene. Il mio problema è nato tra scuratezza, paradontite e quindi diciamo la mia situazione era rimasti pochi denti, quei pochi si muovevano e quindi era una situazione molto problematica. Gli impianti totali sono stati sei perché la mia purtroppo era una situazione di mancanza di osso molto problematica e quindi ho un overdent e per adesso va tutto bene. La mia vita sicuramente è cambiata perché si riesce a mangiare, a masticare, cosa che era tanti anni che purtroppo non succedeva più. Benefici tanti, soddisfatta di questa clinica che è veramente secondo me molto molto efficiente, molto brava, il laboratorio, tutte le persone che lavorano sono tutte molto persone competenti. Intanto la cosa che all'inizio ho cercato ed è stata la prima cosa che ho chiesto a tutte le cliniche sia in Italia che fuori Italia che ho chiesto era l'anestesia semicosciente perché io ero una cosa che ho cercato in prima perché sennò io avrei paura e quindi per me era una cosa che non si poteva prescindere. Poi tutti molto competenti e efficienti.